Conferimento dei rifiuti al di fuori degli orari previsti, mancato utilizzo di bidoncini e sacchi forniti dal gestore, mancato rispetto della corretta separazione dei materiali. Sono criticità che oltre a creare problemi di decor urbano appesantiscono il costo del servizio di raccolta, ma ad oggi il comune, almeno così promette, farà sul serio. Basta al rifiuto selvaggio, manifesto di un sempre più imbarazzante degrado urbano e cibo prediletto per legioni di roditori. In campo vigili ambientali e personale IREN. Le azioni di controllo ora saranno sistematiche in tutti i quartieri, dal centro alla periferia, per controllare tempi e modalità di esposizione dei rifiuti. In caso di conferimenti scorretti pioveranno avvisi sui contenitori e poi le sanzioni nei casi in cui verrà rilevata l'infrazione. Come avviene per il posizionamento di autovelox e autodetector, il comune e IREN hanno deciso di rendere noto preliminarmente le zone in cui verranno effettuati i controlli nelle varie zone della città, ovviamente senza sorvolare su eventuali irregolarità accertate anche al di fuori dell'azione preventivata. Le prime uscite sono previste da oggi al 26 settembre nel quartiere Lubiana e a fine settimana verranno resi noti gli esiti. Dunque un giro di vite sulla corretta esposizione dei rifiuti, mentre il Movimento Civico Parma Unita procede nella direzione opposta, vuole l'installazione dei cassonetti differenziati e annuncia che la relativa petizione ha ormai sfondato quota 2000 firme. Quel che stupisce gli organizzatori è che non accenna a diminuire il flusso costante di cittadini che si presentano ai banchetti per apporre la propria firma alla richiesta di modifica del sistema di raccolta. Anziani soli in casa, molti di questi con difficoltà deambulatorie, giovani coppie che vivono in bilocali, che non dispongono di spazi per trattenere il residuo per giorni e giorni. Tutte questioni che andavano vagliate attentamente, dice Parma Unita, prima di imporre un sistema di raccolta così rigido e che oggi contribuiscono enormemente a creare un clima di vessazione nel quale i cittadini faticano a riconoscersi.